Il pernottamento dei migranti. Siamo andati a vedere nel servizio il punto della situazione a poche ore dall'arrivo della nave, dopodiché la linea potrà tornare allo studio. Si è messa in moto prima dell'alba la macchina dell'accoglienza. L'ultimo strappo prima del grande lavoro, l'arrivo della Geobarens nel porto della Spezia. La nave di Medici senza frontiere con a bordo 237 migranti raccolti in tre distinti salvataggi a largo della Libia nei giorni scorsi. La Croce Rossa Locale ha allestito un ospedale da campo con sei tendoni, due le ambulanze a disposizione. Anche la Caritas ha lavorato tutto il giorno e tutta la notte per ultimare i kit di accoglienza. Vestiti, cibo, acqua, coperte. Allertato anche l'ospedale di Sarzana per eventuali ricoveri. Ieri il Ministero dell'Interno ha risolto il nodo dei minori non accompagnati. Sono 74, in attesa di verifiche saranno tutti formalmente considerati minorenni. Una minima parte resterà nelle strutture della Spezia, gli altri a Genova e nel resto del nord Italia. L'intenzione è di indirizzare tutti i minori adulti alle rispettive strutture di destinazione nel giro di due giorni. Per il pernottamento è stato predisposto l'ex Terminal 1, uomini su un piano, donne e minori su un altro. Uno sforzo logistico importante, messo in atto in meno di una settimana con il coordinamento della Prefettura. La Spezia è il porto sicuro assegnato dal governo italiano all'imbarcazione. Secondo il recente decreto ONG avrebbe dovuto raggiungerlo dopo il primo salvataggio con 69 migranti a bordo. Nel frattempo però di salvataggi la nave ne ha effettuati altri due. Ora il Ministero dell'Interno intende contestare all'equipaggio la violazione del decreto.